buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della gara palla volo padova a rana verona in programma domani alle 18 alla qn arena sesta giornata di superlega grazie coach per la disponibilità e come sempre ti chiedo di partire analizzando insomma l'avversario che che ci aspetta e il momento insomma della squadra buongiorno ovviamente per noi è una partita con un'importanza fuori normalità perché adesso a noi servono i punti troveremo una squadra che ha fatto un miglioramento netto nei ultimi due tre settimane e gioca veramente bene tanto è vero che l'ultima partita con modena loro hanno sprecato secondo me un'opportunità importante come l'abbiamo fatto anche noi di perdere un set mi sa che era da 23 21 che sembrava ormai compromesso e non sono riusciti ma questa è la mancanza di esperienza la situazione secondo me è simile a quella nostra giocano bene hanno alcuni battitori che sbagliano poco e battono molto bene come gabi garcia e come gardini una squadra composta da come proprio come filosofia loro rischiano tanto in battuta e quando la battuta entra fanno tanti danni e questo è caratteristica loro da dei ultimi due tre anni quindi dobbiamo stare molto bravi a ricevere e a tenere la palla buona se no diventa difficile a giocare poi ovviamente hanno un mix tra i giocatori come gabi garcia il libero che sono diciamo giocatori con una esperienza internazionale e alcuni giovani perché la società di padua è molto brava anche da trovare e di costruire i nuovi giovani che a me questo piace come gardini come desmet come porro un po posso dire che assomigliano un po a noi una società che ha condizioni stupende di lavoro e quindi permette anche di far crescere i giovani noi in questo momento siamo nelle condizioni simili della settimana scorso due settimane fa stiamo cercando di recuperare i giocatori di sarò felice quando avrò tutti in campo ecco diciamo così per poterli allenare e questo è il nostro grande desiderio per le prossime settimane per adesso giochiamo con le opportunità che abbiamo però i punti sono molto importanti per noi buongiorno facendo un passo indietro a catania sul 2 a 0 perso quel terzo 7 sembrava che si riproponesse un po la stessa situazione viste le altre partite invece c'è stata una reazione furiosa della squadra che quella reazione lì può essere un punto di svolta per in vista delle prossime sfide ma io non direi non tirerei conclusioni da una situazione così il fatto è che noi abbiamo i giocatori non noi ma i giocatori sono stati bravi di gestire i primi due set perché non è che erano semplici i primi due set i primi due set erano punto a punto e quando serviva la squadra ha fatta le cose giuste in campo così li abbiamo vinti il terzo che sembrava vinto con due possibilità di cambio palla consecutivi abbastanza buoni con una recensione anche buona vicino alla rete non siamo riusciti di fare è un altro contrattacco anche e quindi lì si è inciampato il nostro meccanismo è subito se come dire si è ripetuta la situazione delle partite contro taranto modena e anche monza ma noi abbiamo parlato tanto di queste situazioni prima delle partite li abbiamo anche allenato abbiamo spiegato cosa dobbiamo fare in situazioni di questo genere e la squadra poi regita bene nel quarto set devo dire è stato anche bravo mozic perché nel quarto set è partito in una maniera strepitosa lui ha fatto non mi ricordo 7 8 9 punti sono nel quarto set ma a me interessano poco i singoli perché la reazione di squadra e comportamento in campo e il body language queste sono le cose che che fanno differenza nei momenti così fa parte della crescita dobbiamo lavorare tanto non penso che abbiamo risolto il problema però si è visto una buona reazione è un risultato in questa partita molto positivo e guardando un po i numeri le percentuali però in generale quindi sono numeri non che danno un una visione abbastanza generale e rana verona sembra che abbia secondo le percentuali più problemi in in battuta in ricezione rispetto alla media delle altre squadre e secondo te questo quanto sta influendo sulle prestazioni e quando secondo te potrà sistemarsi questa questi due fondamentali non sono d'accordo noi sbagliamo pochissimo indici in battuta rispetto altre squadre il nostro margine di errore molto basso non produciamo tanti danni magari lei ha guardato i eis probabilmente ma questo non vuol dire la battuta la battuta è un equilibrio tra le battute sbagliate e i danni fatti non solo i noi in questo momento grandi battitori che producano tanti eis non li abbiamo per il futuro di sicuro saranno già vorono sanni e che età non sono ancora pronti per diversi motivi però sì e questo mi aspetto di migliorare nei prossimi due tre mesi come percentuale di eis o di punti diretti o di slash eccetera però nel resto la nostra battuta è molto equilibrata come ricezione no perché noi adesso quest'anno abbiamo una ricezione una linea di ricezione soprattutto con l'ingresso di sanni nelle ultime partite tra sanni d'amico rock ma anche giavo che ha migliorato tanto la sua i suoi percentuali non abbiamo percentuali inferiori ai altri dobbiamo secondo me invece crescere tanto ancora in attacco tanto ancora in difesa la costruzione di contrattacco organizzazione della transizione questo sì dove le squadre forti se prendiamo da esempio perugia trento civiter nova piacenza loro sono molto bravi e molto forti nelle fasi dell'attacco ma anche il contrattacco lì ancora abbiamo di tanto di lavorare tanto di crescere la battuta e la nostra decisione quest'anno è molto meglio rispetto all'anno scorso quando avevamo una linea di ricezione che soffriva tanto quest'anno sia come percentuali come come impostazione in campo come tranquillità siamo messi meglio ovviamente questo è un base da quale possiamo iniziare di lavorare quando abbiamo tutti i giocatori a disposizione e di pensare che alla base di questa ricezione questa battuta migliorando come ha detto lei il numero delle battute forti possiamo avere un miglioramento netto sia nelle fasi break che parte della battuta sia nelle fasi cambio palla che parte della decisione spero di averlo il mese di gennaio proposito appunto dei giocatori da recuperare come stanno spirito spirito bene bene e gli altri quali ci sono altri problemi giocatori come sapete bene ancora abbiamo ai da fuori abbiamo chietà fuori questi due di sicuro e abbiamo diverse problematiche che con altri giocatori che non mi permettono di lavorare come vorrei o come vogliamo come staff o come vogliono i giocatori gestiamo sempre rock perché così dall'inizio stagione abbiamo altri problemini che non permettono uno all'altro c'era sempre jovic che ha giocato le ultime partite con dei problemi però questo fa parte dello sport assolutamente non penso che a volte ci vuole anche la fortuna ma si può vedere anche nelle altre società e altre squadre piacenza modena tanti altri è ovvio che è banale però è così chi ha più possibilità economiche prende giocatori più forti più fisicamente più forti sani eccetera è più facile i giocatori però esperti sanno anche come gestire il corpo durante la partita durante l'allenamento i giovani dall'entusiasmo e dalla volontà di fare a volte non riescono di essere così ordinati nel durante l'allenamento per per capire quando è da non esagerare eccetera ma sono le cose normali insomma li vedo dappertutto prima i complimenti a padava giustamente perché a modena hanno dimostrato grande carattere e a padua come sempre poi si esaltano in casa e sempre poi il derby veneto molto sentito quindi ti aspetti una partita appunto appunto una battaglia dove conterranno i piccoli particolari per fare la differenza ma io il derby veneto non lo sento perché sono un veneto di adozione non di nascita per me la partita come tutte altre partite in senso io non non ho questa impostazione la testa che adesso andiamo a giocare lì e sarà diverso come partita per me tutte le partite sono da vincere da dare il massimo di migliorare di fare tutto quello che si può in ogni singolo punto non penso mai contro chi giochiamo padua e come sarà il campo il derby queste cose secondo me vengono più dal calcio che della pallavolo io rispetto tanto la società di padua perché hanno fatto delle cose veramente importanti negli ultimi anni organizzati bene condizioni di lavoro stupendi secondo me loro sono delle due società come condizioni di lavoro migliori in italia ogni anno cambiano i giocatori però sempre trovano i nuovi giovani si si gioca difficile da loro hanno una filosofia della battuta che tirano tutto braccio sia la battuta entra e possono giocare con tutti sono coraggiosi certo che li rispetto li rispetto però noi servono punti perfetto grazie coach prima di chiudere ricordo che fino al 19 è aperta e attiva la prima fase di vendita per la gara contro perugia del 26 novembre quindi i prezzi a tariffa garantita per cui ancora insomma pochi giorni per garantirsi i ticket per assistere a questo importante match grazie ancora coach per la disponibilità per il tempo per averci presentato la gara di domani e buona giornata a tutti grazie